Ciao a tutti! Ciao a tutti! Eh, come hai fatto? Non ho fatto un cazzo! Ahahahah! E' un po' di soldi! Ma dove è il barattolo? Ma dove è il barattolo? Sì, beh! Due, due! Ma che ha per forza? Ma che non c'è il ruolo, eh? Beh, beh! Non c'è il ruolo! Ah, eh! Ma che ti ha fatto? 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 Non l'hai capta? Sei malto! Ma dai, adesso è una... Rima, scontare! Ma d hemp! Non l'hai capito! Sai, ma è la catacluta! Ma hai capito! Non l'hai capito! Non l'hai capito! Mi sembra che la mia capiva! Non l'hai capito! Non l'hai capito! Si, si, si! Ma l'hai capito! Mi ha spaventato che ti metti! L'ultimo mi? Mi fai un ciobitsu che於 me la marina non la digerisce? Una melina Vai su Youtube Pantonella sei su Youtube Fai lo zoom Zoommagli sulle tette Allora vai sull'altra Vai a fare i cucini Quello è brutto Un pochino in là Eeeh Oh Dico Porco Dio Zio Io intanto vincere Nicola Come tu Quattro, arrivo col 5 Grazie